Una linea di preparati da cui realizzare farmaci su misura per il trattamento delle malattie rare. E' l'ultima frontiera raggiunta da PharmaLabor, realtà leader del settore farmaceutico, che guarda alla galenica del futuro con una nuova serie di basi pronte in grado di rendere più facile e soprattutto rapido il lavoro del farmacista. Parliamo di PharmaLabor Fast, la novità lanciata dall'azienda Canosina, frutto dell'attività di ricerca e sviluppo in laboratorio che offre un'opportunità in più nella cura delle patologie poco comuni. E' il caso dell'esofagite eosinofila, disturbo cronico dell'esofago che in Italia colpisce circa 2 milioni di pazienti e il 70% di questi è costituito da bambini in età pediatrica. Stiamo concentrando l'attenzione della nostra ricerca e sviluppo proprio sull'allestimento e la formulazione di basi pronte per la terapia delle malattie rare. Perché ci stiamo focalizzando su questo ambito di sviluppo? Proprio perché le Big Pharma non hanno l'interesse a produrre farmaci industriali per delle patologie così rare i cui numeri appunto sono molto bassi, quindi di solito si ricorre alla prescrizione galenica da parte dei medici. Ecco perché noi con la linea di basi pronte ad uso orale vogliamo fornire ai farmacisti preparatori che ricevono la ricetta e la prescrizione del medico uno strumento che ne faciliti il loro lavoro. Il lancio della nuova linea è stato fatto in occasione della visita ufficiale nella sede di Pharma Labor del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che ha voluto conoscere da vicino una delle realtà aziendali più innovative d'Italia, simbolo di un'industria del sud che funziona. Un'industria in cui c'è innovazione, visione del futuro, è un'industria che ci dice che cosa deve essere l'Italia e che può essere il nostro mezzogiorno. Un'industria che investe su prodotti ad alto impatto innovativo, ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di investimento, legata molto al territorio con un'idea molto forte di impresa comunità, un bel modello di un capitalismo familiare italiano che parte della storia, della tradizione e del futuro dell'industria italiana. L'ennesima medaglia al petto per l'azienda farmaceutica che cresce, si rinnova e guarda al futuro. Il mercato in nicchia quando è molto piccolo, quando è molto distretto il mercato in nicchia può diventare un loculo. Noi abbiamo necessità di aziende che crescono, l'ambizione della Pharma Labor è passare da essere una media impresa, siamo nati micro impresa, siamo diventati piccoli, oggi siamo media impresa e il nostro obiettivo è diventare una grande impresa, un'impresa che possa nascere e crescere e prosperare e creare ricchezza e creare valore al nostro territorio.